Continua l'ondata positiva per il turismo nel Salernitano, sold out weekend nelle località di mare, visitatori stranieri ed italiani affollano gli imbarchi per la costiera amalfitana, un settore che è ripreso alla grande, come sottolinea il consigliere regionale Franco Picarone. È una spia di quello che è la voglia delle persone di riprendersi un po' la vita dopo le restrizioni pesanti del Covid del 2020 e del 2021. Noi speriamo che con comportamenti saggi delle persone, ricordiamo sempre la mascherina nei luoghi assembrati, ricordiamo un minimo di prudenza per rimanere sempre distanziati. Per il resto dobbiamo augurarci che questa esplosione di turismo rimanga nel tempo. Importante è aver potenziato le vie del mare che fanno registrare ottimi numeri, spiega il consigliere Picarone. Abbiamo ripreso noi con tutta la nostra azione incisiva le vie del mare, che sono una cosa molto importante, l'alta velocità per l'estate. Sono tutte cose che poi alla fine servono al territorio e consentono ai cittadini una mobilità sostenibile in questo periodo di grande calore e di grande caldo. La campagna ha da offrire delle bellezze impressionanti, Salerno rimane una località attrattiva. Pensiamo che ci sarà il sold out quest'estate e durerà anche parecchio.